Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia e ben ritrovati qua nella mia biblioteca. Allora, cari signori, questo video è un'aggiunta al video di celebrazione del primo compleanno di questo canale YouTube. Perché? Perché ieri sera avevo registrato due versioni diverse del video e ho postato, ahimè, quella incompleta. Perché? Perché nella lista dei ringraziamenti mancavano alcune persone a cui devo veramente molto per i video del mio canale. Sto parlando di Luciano Lambiase che mi aveva aiutato con la stesura, con le documentazioni, con le dritte sul video a proposito dell'operazione Compass e dovevo ringraziare anche di tutto cuore James Warspite per, anche lui, per le dritte che mi ha fornito, per, diciamo, gli aggiustamenti. Insomma, mettiamola così. Io sono stato per un mese a cercare di elaborare il video su Montgomery, ma non ero mai soddisfatto. Ho avuto alcune conversazioni su Facebook con James, con James Warspite e diciamo che sono riuscito, grazie alle nostre discussioni, a elaborare un video decente perché quello che, come dire, avevo fatto da solo non mi soddisfaceva, ok? Inoltre devo ringraziare anche l'amico Paolo Alpini per i suoi preziosi consigli e per le sue preziose dritte. Le ho detto, ieri sera ho postato il video sbagliato perché mancavano i ringraziamenti a queste tre persone. Persone che devo ringraziare veramente di tutto, di tutto, di tutto cuore. Grazie davvero e niente, di tutto cuore e arrivederci al mio prossimo video.